Buongiorno ragazzi e bentornati. Siamo giunti all'ultima lezione sull'Alto Medioevo, quindi abbiamo appena visto l'età carolingia, quindi c'è il tentativo di affermazione di una certa struttura sociale, politica e militare sui domini dell'impero di Carlo Magno. Abbiamo già visto che ci sono dei grossi problemi proprio in questa struttura, quindi questa struttura che si basava su relazioni che diventano sempre meno salde e quindi queste relazioni fra Carlo Magno e colui che gli doveva fedeltare, quindi l'imperatore e tutto il sistema reticolare che caratterizza l'Alto Feudalesimo, quindi il primo tentativo di formazione del Feudalesimo fallisce. Infatti in questo capitolo parleremo della crisi del IX e del X secolo e poi l'anno prossimo vedremo la rinascita dopo l'anno 1000. Allora, dopo la morte di Carlo Magno assistiamo a una disgregazione del potere. Il tentativo di Carlo Magno di creare una struttura solida fallisce, fallisce perché aveva nelle sue basi proprio la forza solamente nell'autorevolezza di Carlo Magno, nella sua capacità di vincere guerre, di stabilire dei rapporti di fedeltà con i suoi vassalli. Ma vediamo un po' velocemente cosa succede. Nell'814 muore Carlo, lascia tutto a Ludovico il Pio, che riesce a governare ancora in maniera unitaria almeno fino all'840. Nell'840 muore Ludovico e i suoi eredi sono tre. Avevamo già visto precedentemente che la Lex Salica, quindi la legge dei Sali, del popolo dei Sali, antenato dei Franchi, stabiliva che il re dovesse dividere il suo territorio fra i suoi figli. Quindi tutte le volte i tentativi di riaggregazione dei territori si scontravano poi alla morte del re, con la successione che li spartiva nuovamente fra tutti i suoi figli. Data fondamentale che ci fa capire che fin da subito sono in guerra i figli di Ludovico il Pio, quindi immediatamente questa spartizione di territori diventa problematica, tanto che abbiamo il Trattato di Verdun, che si studia anche in italiano, è uno dei primi esemplari di scrittura in un volgare tedesco e francese, chiamiamolo così, Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo si spartiscono i territori. Quindi vedete che immediatamente questo impero creato da Carlo Magno, non avendo basi solide, ma solamente un tentativo di relazionare i poteri uno all'altro, fallisce. Quindi, come dicevamo, questa prima fase dell'età feudale si basa su una rete di rapporti di fedeltà, cioè il potere era basato su quanti rapporti di fedeltà un re riusciva a conservare per sé, quindi su quanta forza aveva in questi rapporti, perché abbiamo visto che questi re basavano anche la loro forza militare sulla forza dei propri vassalli. Più i vassalli erano forti, e più erano legati al proprio re, e più quando si andava in guerra potevano fornire eserciti potenti. Carlo Magno aveva avuto un potere enorme, legato soprattutto alla sua autorità, alla sua autorevolezza, alle sue capacità, ottiene un enorme successo militare che gli permette di ingrandire, di concedere feudi, e quindi sempre di più i feudatari sono legati a lui, in modo particolare non allo Stato. Non siamo ancora un'idea di Stato, siamo lontanissimi. C'è un re che lega a sé dei vassalli. I discendenti di Carlo Magno hanno un problema, che questo sistema di Carlo Magno, di fedeltà dei vassalli, fa sì che quando i discendenti entrano in lotta fra di loro, per avere quanti più vassalli cosa fanno? Concedono dei benefici, concedono dei favori, concedono dei vantaggi. Questo porta sempre di più i vassalli, cioè i feudatari, ad essere indipendenti dal re. Quindi, per avere la loro fedeltà, i re cosa gli concedono? Gli concedono alcune leggi che trasformano l'idea iniziale di Carlo Magno, perché i vassalli sono sempre più autonomi dal re. Il documento più importante, dal punto di vista legislativo, che cambia la storia del feudalesimo, come l'aveva voluto Carlo Magno, è il capitolare di Quersì, che concede l'ereditarietà ai feudatari maggiori, e poi successivamente lo concederà anche ai feudi minori, cioè a quelli più piccoli o a quelli derivati da un altro feudo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il feudatario non era più legato al re, era diventato vero e proprio signore del suo territorio, perché quando moriva il territorio non tornava al re o all'imperatore, ma rimaneva ai figli del feudatario. Quindi vedete come i feudatari non sono più legati alla fedeltà al re, potevano anche togliergliela, tanto il re non poteva più togliergli quel territorio. E quindi a questo punto i feudatari sono in una posizione privilegiata rispetto al re e all'imperatore, tanto che dieci anni dopo il capitolare di Quersì, addirittura Carlo il Grosso, che era il re della Francia dopo aver subito le invasioni dei vichinghi e non aver combattuto dignitosamente, viene detronizzato dai propri feudatari. E quindi nascono tutta una serie di regni indipendenti e di feudi che sempre più giocano un ruolo importante nello stabilire le gerarchie del potere. Quindi abbiamo una vera e propria frammentazione del potere. Il tentativo carolingio di creare un sistema che unificasse il potere fallisce quasi immediatamente e si crea quella situazione magmatica che poi vedremo l'anno prossimo porterà a delle ben altre soluzioni politiche e istituzionali. In questa situazione di frammentazione del potere, cioè nel fatto che non c'era più un forte potere come quello del Regno Carolingio, dell'Impero Carolingio, che stabilisse una difesa dei confini occidentali dell'Europa, arrivano una serie di nuove invasioni. Abbiamo le ultime invasioni barbariche. Che cosa sono queste invasioni? Sono tre tipi di invasione. In questo caso abbiamo da nord, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Danimarca arrivano i vichinghi, i cosiddetti vichinghi. Sfruttano delle condizioni climatiche che stanno migliorando, cominciano a navigare mari che fino ad allora erano difficilmente navigabili e si muovono alla conquista di territori o alla depredazione, al saccheggio. I norvegesi vanno in Islanda e poi in America, saranno i primi a giungere in America, ma non si accontentano. Attaccano il Regno Anglosassone, scendono fino in Francia, attaccano Parigi, attaccano le coste della Francia, scendono nel Mediterraneo e arrivano addirittura ad attaccare in Italia la città di Luni, scambiandola per Roma. Erano dei predatori che viaggiavano su navi molto agili ed erano feroci, feroci combattenti che si muovevano molto velocemente, attaccavano a sorpresa ed erano il vero terrore di questo secolo. I danesi invece si muovono più lungo le coste del Regno Anglosassone e lo mettono a ferro e fuoco e fondano delle colonie nel nord della Francia e dei Paesi Bassi. E invece gli svedesi seguono un'altra strada, scendono lungo le rive, lungo le vie di comunicazione dei fiumi nordici e fondano il Principato di Kiev, che poi sarà un po' il nucleo della Nuova Russia. Quindi i vichinghi hanno un ruolo ben definito nel creare la totale insicurezza che c'è in questi secoli. La gente era terrorizzata di quello che poteva accadere, e per questo che cominciano a vivere lontano dalle città che venivano assalite da queste invasioni, si comincia a vivere nei boschi. Sono gli anni, i secoli più bui probabilmente del Medioeuro, sono quelli dove veramente l'economia si chiude, si cerca di essere autosufficienti, di nascondersi il più possibile e di entrare a contatto il meno possibile con gli altri. Altro popolo che terrorizza l'Europa sono gli Ungari. Da est, erano un popolo che arrivava dalle steppe asiatiche e per un secolo circa terrorizza con delle incursioni che arrivano fino al sud Italia tutta l'Europa occidentale. Poi vedremo che verranno fermati dal nuovo imperatore Ottone I, che rinsalda nuovamente l'impero all'Eckfeld, e verranno costretti a vivere nel territorio dei Magiari, cioè nel territorio che oggi si chiama Ungheria, proprio dagli Ungari. I terzi invasori di questo periodo sono i Saraceni. I Saraceni sono degli Arabi che vivono lungo le coste del Nord Africa e che terrorizzano e alcune volte conquistano, vedi Sicilia o vedi Puglia, dei territori che prima erano dei bizantini. Quindi abbiamo per un paio di secoli la dominazione saracena di alcuni territori italiani e ancora oggi ci sono delle enormi tradizioni, aspetti della vita, intere città costruite in un certo modo che testimoniano proprio la dominazione araba saracena sia della Sicilia che della Puglia. Pensate solo al couscous, che è un piatto tipico del Nord Africa, ma che si mangia anche in Sicilia, un piatto siciliano che proprio deriva da questa dominazione araba, ma sono tantissimi altri gli aspetti che gli Arabi lasciano in queste terre italiane. Quindi, le invasioni, per ribadire, sono causate dalle lotte interne all'impero. C'è una frammentazione del potere, dopo Carlo Magno abbiamo un potere troppo frammentario che non riesce a difendere il territorio, quindi non c'è più un'organizzazione unitaria, eppure bisogna difendersi in qualche modo, e quindi cambia il Medioevo, cambia il volto dell'Europa. La popolazione non ha più una possibilità di essere difesa da un qualcuno di esterno, da un impero, da un esercito, e quindi si appoggia al signore più vicino per ottenere difesa, stringendo con questo signore dei nuovi patti di fedeltà. In cambio della difesa, questi signori che il più delle volte sono dei mezzi delinquenti, sono dei mezzi delinquenti che hanno conquistato un territorio e l'hanno sottomesso, però la popolazione che abita in questo territorio, in cambio della difesa, promette fedeltà e rende servizio. Inizia la società tripartita tipica del Medioevo, dove c'è chi difende e chi lavora, e poi c'è chi prega, perché la Chiesa ha un altro ruolo importantissimo. Quindi si moltiplicano i legami di fedeltà, quello che era semplicemente una cosa istituzionale inventata da Carlo Magno, cioè il vassallaggio diventa una forma proprio di relazione fra le persone. Ci sono persone con maggiori diritti che si legano in rapporti di fedeltà a persone che hanno meno diritti, cioè il popolo, i signori e il popolo, in cambio di difesa. E quindi, come fanno a difendere i territori? Lo fanno con la forma dell'incastellamento. Il volto dell'Europa cambia, dell'Italia, se ce l'immaginiamo, ogni città italiana ha il suo castello o l'aveva, soprattutto città più nascoste, più facilmente difendibili, quindi non le grandi capitali italiane, non Milano, non Bologna, non Roma, ma ci si sposta a vivere intorno a castelli in posizioni strategiche, quindi al di sopra di rocce, di rocche, da cui il nome Rocche, al di sopra di colline, facilmente difendibili. E abbiamo il fenomeno dell'incastellamento. Il Medioevo, come ce lo immaginiamo noi, il signore del castello, con i cavalieri e la popolazione sotto difesa da lui, nasce proprio in questo periodo, quando non c'è più un potere centrale che tiene tutto insieme, che difende da attacchi esterni. E quindi il feudalesimo, che Carlo Magno aveva inventato come forma per tenere insieme le istituzioni, diventa invece una forma di società vera e propria. Cioè tutta la società non è più di persone uguali, ma è una società regolata da rapporti di fedeltà fra persone che hanno più diritti e più potere, e persone che ne hanno meno. Qui possiamo vedere la zona di Serravalle, la zona della Valle dell'Arno, che si costella su ogni monte. C'era un castello di un determinato signore che stabiliva leggi e pretendeva tasse dai suoi contadini. Quindi c'è una fermentazione enorme del potere, che poi piano piano, l'anno prossimo vedremo, si riaggrega. Cioè il castello più forte sconfigge quelli più deboli e mano a mano il territorio si riaggrega in situazioni più semplici e meno frammentari. Però fondamentalmente come nasceva un castello? Spesso e volentieri erano costruiti sulla tipologia della Curtis, cioè i primi castelli erano delle Curtis che si formano sulla base di quelle romane costruiscono degli elementi di difesa, quindi un terra pieno che rialza rispetto alla pianura delle mura e un castello più o meno fortificato a livelli, detto Mastio, che doveva accogliere gli abitanti in caso di pericolo. Quindi questa è la forma base del castello, che poi ovviamente fa nascere l'arte, una vera e propria arte architettonica, ingegneristica nella costruzione dei castelli, sempre più complessi e sempre più facilmente difendibili. In quest'epoca nasce l'idea di cavalleria, quindi quando parliamo di cavalleria, e ne parleremo soprattutto l'anno prossimo in letteratura, che cos'è la cavalleria? è la possibilità di combattere solo da parte dei signori, perché erano gli unici che potevano avere un cavallo, poi ovviamente in guerra ci andavano anche i poveracci, ma i veri guerrieri erano i signori, i nobili, coloro che avevano preso il potere, a volte non avevano sangue blu, non erano nobili, erano semplicemente dei delinquenti che si erano impossessati di un territorio, però piano piano si nobilitano, si rendono nobili, si creano delle storie dietro di loro di antenati famosi, e nasce la nobilità europea come la conosciamo oggi. In quest'epoca il figlio del signore ereditava il feudo, ma gli altri figli dovevano fare qualcosa, e quindi cosa fanno i figli non primogeniti? Fanno i soldati di professione, o nel castello del proprio genitore, oppure in un altro castello, si addobbano col suo stem, vanno al suo seguito, sono i suoi alleati, sono i cavalieri del re, no? Nasce l'ideologia cavalleresca, la guerra e la loro professione sono un po' gli eroi dell'epoca, sono i supereroi, gli Avengers dell'epoca, i cavalieri, anche se non era sempre così, in realtà il famoso codice cavalleresco, quindi il cavaliere doveva portare dei valori, difendere le donne, difendere i bambini, combattere solo contro i nemici, i cattivi, in realtà i cavalieri poi, come ci racconta Riosto, nell'Orlando Furioso, che studieremo l'anno prossimo, erano tutt'altro, ovviamente, era una società estremamente maschilista, ed estremamente arretrata, quella dell'anno, del X-XI secolo, però nella fantasia, soprattutto letteraria, i cavalieri hanno questo ruolo, che poi verrà esaltato dalle crociate. Andiamo a vedere l'ultima cosa che accade, rinasce alla fine di questo periodo di frammentazione, e rinasce però a un impero erede di quello di Carlo Magno, il cosiddetto Sacro Romano Impero di Nazione Germanica. C'è una data, anche questa, segnata dall'incoronazione del Papa, 160 anni dopo l'incoronazione di Carlo Magno, viene incoronato, imperatore del Sacro Romano Impero tedesco, Ottone I, primo ducca di Sassonia, era un imperatore che riesce ad ottenere il predominio su tutti gli altri duchi della Germania, sconfigge gli Ungari a Lekfeld, quindi ottiene anche questo prestigio, e sette anni dopo viene incoronato dal Papa, e quindi aveva nominalmente il potere, perché il Sacro Romano Impero sarà sempre un potere molto nominale, più che reale, non dobbiamo immaginarcelo come un re che possedeva un territorio, come possiamo considerarlo oggi, era anche lui un imperatore legato alla fedeltà di tutti i suoi vassalli, e quindi ha bisogno della fedeltà dei suoi vassalli, Ottone I per ottenere maggiore fedeltà si inventa i Vescovi Conti, e con questo chiudiamo, perché i Vescovi Conti? Perché i Vescovi Conti hanno il vantaggio di non avere figli, o perlomeno, se anche avevano figli, non potevano ereditare, erano figli illegittimi, quindi perché creare un sacerdote, un religioso che governa un territorio? Perché così l'imperatore tornava ad avere il privilegio di donare i suoi territori, perché ogni volta che un vescovo moriva, il feudo ritornava, l'imperatore non veniva ereditato dai figli, quindi ha un tentativo di bloccare la frammentazione del potere. Però vedremo l'anno prossimo che questo crea un problema successivo, che si chiamerà lotta per le investiture, ma non era il Papa a nominare i Vescovi, quindi a un certo punto vedremo che il Papa comincerà a prendersela con i discendenti di Ottone, fino a che ci sarà un vero e proprio sconto, fa il Papa e l'imperatore su chi era il potere superiore, che doveva avere la possibilità di nominare feudatari e Vescovi. Va bene, io vi saluto e vi lascio quest'ultimo studio prima delle vacanze. Ciao a tutti, buone vacanze!